si 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 cuore mio e allora come stai? hai mangiucchiato? ti sei svegliato? sono venuto a prendere una pizza Giuseppe perché voleva la pizza stasera noi siamo tornati dai calcetto ciao e ora sto aspettando questa pizza senti e niente ma l'altro è venuto e ora stava sicuramente preparando qualcosa con la nonna e i capelli hai visto come crescono? senti ah vedi una curiosità per i capelli vedi questa cosa te lo volevo chiedere l'altro giorno ma quando ci si fa il trapianto ovviamente quei capelli trapiantati non crescono più e rimangono sempre tali non ingrigiscono niente rimangono sempre tali e quali è vero? no era una mia curiosità perché poi praticamente ovviamente i capelli quelli da sotto quelli crescono ovviamente quindi vanno accorciati più che altri capelli quelli tuoi eh se mo non iniziare a dire quei pochi capelli che ho eh quelli che hai quelli che hai eh senti e niente e poi resta tutto a posto insomma tutto tranquillo insomma eh mo vediamo un po cosa c'è da fare anzi più che altro cosa c'è da mangiare stasera eh senti ho visto bello tutto a posto stai bene ho visto che non stai avendo grossi problemi grandi problemi eh vabbè ho ricevuto altri squilli adesso vabbè cuore quello è così alla fine fai gli squilli per per farsi sentire presente capito? vabbè dai no ma io dico l'importante che 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 capisce come devono andare le cose che non io penso che dopo questa mazzata che ha beccato io credo che ma già da prima già si vedeva il cambiamento però io penso che la situazione che ha vissuto sia lui e sia ciccio penso che abbiano fatto capire molto a lui almeno lo spero a meno che come i ciucci sai quelli che mettono come gli asini o i cavalli che mettono le come si chiamano i paraocchi e vedono solo dritte non vedono né a destra né a sinistra io penso che loro si siano resi conto ma non tanto ciccio quanto lui che in questa vita siamo solo di passaggio da un momento all'altro può succedere qualsiasi cosa e noi ne stiamo spagando lo scotto lo sappiamo benissimo eh meno male che ne stiamo uscendo ne stiamo uscendo meno male eh ecco perché questa vita bisogna viverla e godersela e prendere tutto ciò che c'è di buono ok buttare il passato alle spalle buttarlo via pensare al futuro pensare al presente e al futuro certo ogni tanto uno sguardo dietro va dato per capire come abbiamo vissuto fino adesso però ci sono i momenti in cui poi si capisce che bisogna intraprendere magari un percorso diverso una strada diversa per stare meglio va bene ma eh guaglio io ti lascio riposare perché sicuramente tra un po' ti addormenterai di nuovo domani ci togliamo un altro ok domani è già il quarto giorno ancora eh eh quindi come vedi vedi veloce 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 ce li stiamo togliendo ok arriviamo al al finale portiamo alziamo la bandiera a scacchi vorrei venire con la bandiera a scacchi sabato almeno sappiamo che abbiamo finito questo percorso vabbè che ci aspetto altro da fare sicuramente però almeno questo percorso sappiamo di averlo portato a termine egregiamente va bene ci aggiorniamo dopo per la buonanotte tu se devi dormire dormi tranquillamente riposa tranquillo ok io so che stai abbastanza bene abbastanza sereno quindi sto sereno e abbastanza tranquillo tranquillo ok ovviamente qualsiasi cosa sai come intervenire lì immediato va bene ci sentiamo dopo ciao Corini ciao un bacio di cuore e una prossima